Ciao a tutti, aggiornamenti dalla Bolivia stamattina dopo aver visitato il bellissimo Salaro Uyuni ho preso un pullman da Uyuni in direzione La Paz c'erano notizie che i mezzi di trasporto, le connessioni sarebbero bloccate in questi giorni quindi ho preferito partire adesso per andare alla capitale dove poi successivamente ho un volo vedete stavamo entrando dentro una città che sicuramente è in mezzo tra Uyuni e La Paz e non c'è stato permesso di entrare quindi praticamente siamo bloccati un po' fuori a 12 km dalla città e non sappiamo cosa fare anche la gente locale perché non ci sono solo turisti anzi sono tantissimi turisti e non c'è il coprì fuori fino alle 6 quindi in teoria non possiamo entrare cioè di entrare a piedi si può entrare e per raggiungere La Paz probabilmente dovremmo partire alle 6 di mattina quando si può circolare quindi questa è la situazione insomma un saluto a tutti ciao allora praticamente abbiamo fatto una stadiana di campagna e abbiamo aggirato il checkpoint che si trova qua quindi siamo riusciti a passare speriamo di arrivare La Paz sarà un'avventura grazie a tutti